Bentornati al Dolce in Paradiso. Oggi faremo le Choco Christmas Cake, che sono delle torte a base di cioccolato che ho pensato per queste feste natalizie. La prima, la Sacher, è uno dei miei dolci preferiti. Non a caso è anche la torta preferita da uno di quei registi di Io Odoro, Nanni Moretti, che l'è dedicato anche in cinema, il Cinema Sacher. Non è proprio a testimonianza della bontà di questo dolce. Io sono stata anche in Austria, a Vienna, in Viaggi di Nozio, e ho assaggiato quella della pasticceria Sacher e dell'hotel Sacher, quella della pasticceria Lever, la pasticceria austriaca di corte, una pasticceria storica, che sono quelle due pasticcerie che per anni si sono contese la paternità di questo dolce. Devo dire la verità, io i migliori Sacher li ho mangiati in Italia, perché trovo che quelle astriccerie siano un pochettino secche, ma qui non vorrei dilungarmi e aprire un capitolo a parte. Poi faremo, nella seconda parte di questo video, la foresta nera, presentata però al piatto, quindi se vogliamo un essere ideale per Natale, e infine la torta opera, un dolce a base di cioccolato e caffè molto stratificata, che è veramente uno di quei dolci, un classico per eccellenza, un dolce internazionale che se non conoscete è proprio il caso che vi diate questo video, perché ne rimarrete affascinati. Quindi partiamo con il primo dolce, partiamo con la Sacher Torta, che qui viene presentata in una versione più moderna. Andiamo a vedere quindi la grafica degli ingredienti. Grazie a tutti. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, six geese a-laying, five golden rings, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, six geese a-laying, five golden rings, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle loves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.